te l'ha assaggiata la coda piano piano fai piano per favore bravo fagli vedere che anche te ti sei fatto male dagli un bacino dagli un bacino allora lo sai che non si trovano più così si trovano solo di nylon o quelle tubolari zi l'hai visti che salti che faccio io che sto più leggero aspetta aspetta lo sai quello che stiamo facendo noi sbagliatisti vabbè ma che ci frega che ci frega perché pensa per assurdo di soliti cani hai definito per assurdo di soliti cani sciolti o se menano o se la gestiscono da soli quando sono legati anche i più buoni possono diventare aggressivi perché non hanno no lo so lo so e li teniamo a bada grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti